Musica Si era costituito nella mattinata di lunedì il conducente della Tembra coinvolta in un frontale domenica sera a Montalto Uffugo nei pressi del bivio che porta al paese con a bordo la piccola Valerie Perry deceduta in seguito al forte impatto abbandonando l'auto e la giovane vittima e girovagando per le campagne antistanti in stato di sciocca almeno è quanto ha dichiarato in seguito agli inquirenti per tutta la notte L'uomo, un ucraino di 20 anni, diura costura, dopo la deposizione spontanea è stato interrogato nuovamente dai carabinieri della Compagnia di Rende e dal PM titolare dell'inchiesta, dottor Assuma che gli ha notificato il fermo giudiziario per pericolo di fuga considerata la gravità del fatto ai numerosi precedenti penali del giovane cittadino ucraino già arrestato per tentato omicidio e per accoltellamento nel 2009 il frontale è venuto con un giovane dell'uovo che era a bordo di una Fiat Brava vecchio tipo di colore verde il costura era ospite a casa della madre della piccola Valerie e prima della cena era uscito per andare a comprare un pacchetto di sigarette e non essendo pratico del luogo si era fatto accompagnare proprio dalla bimba